Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. 8 febbraio, 8, come sappiamo, un numero che trascende la natura, e la Yom Yom di oggi, inoltriamoci, la Yom Yom che ricordo è stato compilato e organizzato da Rebbe di Rubavic, l'ultimo Rebbe nel 1943, 1703, da discorsi e lettere del sesto Rebbe di Rubavic, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson. Dunque oggi appunto la Yom Yom, il Rebbe ci spiega, ci riporta che l'Alte Rebbe a sua volta, cioè il primo Rebbe dei sette di Rubavic, ha detto che il commento di Rashi, sul Humash, che è quello che noi studiamo tutti i giorni, Baruch Hashem, è considerato il vino della Torah, nel senso che apre il cuore e rivela l'essenza più intima dell'ebreo, l'amore e il timore di Hashem. Però abbiamo anche il commento non solo sul Humash, cioè sul Pentateuco, abbiamo il commento di Rashi anche su tutto il Talmud. E allora, per quanto riguarda appunto il commento di Rashi sul Talmud, nel caso del Talmud, apre la mente e rivela l'essenza dell'intelletto. Parlando di Talmud, ci sta. Dunque, ecco, per quanto riguarda questo il La Yom Yom di oggi. Lanciamoci tutte sulla quinta lettura, quinta chiamata, quinto giorno della settimana, appunto, Hamishik, Kamsal Kulano, come si direbbe, nel senso di Kedusha. Dunque, siamo al capitolo 23, Pasuk 6. E oggi, dunque, Hamishik, andiamo da Pasuk 6 a Pasuk 20. Allora, poi ovviamente chi può leggere e vuole leggere, più che benvenuta, fatemi il segno. Intanto, allora, intanto mi, no, forse faccio, forse sentiamo, allora. Rachel, vai giusto per sentirvi un attimo. Allora, vai Rachel, primo Pasuk, e poi io vado al secondo e al terzo perché voglio entrare un po' più nel Rashi, un po' nel dettaglio. Non distorcere il giudizio del tuo prossimo indigente nel suo processo. Allora, come vediamo nel Pasuk, tutti insieme, lotta temishpat e yoncha berivo. Poi, secondo Pasuk 7, capitolo 23, la Torah ci ordina, di Hashem, nella sua bella Torah, di tenerci lontano dalla misogna e non condannare a morte l'innocente e il giusto, poiché, dice Hashem, io non assolverò il malvagio. In che senso? Rashi spiega. Non devi riportarlo in tribunale, ok, nel caso che uno che dovrebbe sì essere condannato a morte, alla fine è stato assolto, non riportarlo al tribunale, perché tanto tranquilli, dice Hashem, io non lo assolverò nel mio giudizio. E, appunto, anche se è stato riconosciuto assolto, io, dice Hashem, ho molti mezzi per farlo morire come si merita. Dunque, tutto il tribunale, come avevamo visto anche ieri, e vabbè, poi c'è questo concetto che un tribunale che in 70 anni ha condannato a morte una persona, è considerato tribunale assassino, e vabbè, non entriamo adesso in tutto questo concetto, perché, come avevo detto, questa parasha è bella tosta, con tantissime leggi, poi da sviluppare nelle diverse trattati del Talmud, in particolare Kama, Baba Mezzia, eccetera, però il punto è che non ti preoccupare, tu fai di tutto per fare giustizia, come abbiamo visto in questi giorni, però poi, se di fatto è stato assolto, non riportarlo in tribunale perché io Hashem, cioè, come lo vediamo anche tante volte nella Torah che hai ricordato, che Hashem punisce chi deve essere punito, ricompensa chi deve essere ricompensato, dunque fidatevi di me. Passukret, beshohad lotikach, allora, no, no, pardon, set, pardon, midvar shekertirchak, viene a kibetzadik al taro, kibetzadik al taro, kibetzadik rashah. E qui arriviamo a un gravissimo peccato, che è quello della corruzione, che divaga nel mondo, fin troppo, dall'alba dei tempi. Allora, non accettare dono di corruzione. E Rashi aggiunge una cosa importantissima, perfino se si tratta di giudicare secondo verità. Dunque la corruzione non deve essere mai accettata in nessun modo. Ha maggior ragione, ovviamente, precisa Rashi, per distorgere il giudizio, cioè se non si può accettare un dono di corruzione anche per giudicare secondo verità, tanto di più ha maggior ragione per distorgere il giudizio. E questo perché, continua Passukri, dice, la corruzione turba la vista di coloro che vedono bene e falsa le parole dei giusti. Allora, come spiega Rashi questo turbamento della vista, che anche un dotto nella Torah, ma però nel caso in cui prende dono di corruzione, alla fine, Dio non voglia, la mente si confonderà e dimenticherà quello che ha studiato e si obnubilerà la luce dei suoi occhi. Per dire, quanto uno può aver studiato Torah e può essere un dotto nella Torah, ma il prendere corruzione, l'accettare un dono di corruzione è talmente grave al punto che anche tutta la sua Torah poi verrà scordata. Vediamolo sul testo, 8. 9 Passuk 9 Non opprimere lo straniero. Abbiamo già visto e lo vediamo tanto nella Torah, questa importanza, abbiamo visto il difetto che hai tu, non porlo sugli altri, perché come tu sei stato straniero in terra straniera, non puoi certo opprimere chi è straniero, in modo particolare. E qui dunque abbiamo anche ancora, riprendiamo questo concetto di non opprimere lo straniero, infatti, come dice Rashi, in molti passi la Torah monisce a favore dello straniero, questo perché la sua condizione è penosa. Poi Talmud, Baba Mezzia, 59D, viene molto sviluppato questo concetto. E continua a possedere, dice, voi conoscete l'animo dello straniero, quanto lì è penoso, quando altri lo opprimano, perché voi stessi siete stati stranieri nella terra d'Egitto. Dunque, come l'abbiamo visto, siamo al capitolo 23 Passuk 9, l'abbiamo visto nel capitolo 22 Passuk 20. Vi ricordate, e ve lo rileggo, non vessare né opprimere uno straniero, perché voi foste stranieri in terra d'Egitto. Dunque, e lì abbiamo fatto il Rush che ci diceva non opprimere, nel senso non depradarlo dal denaro, e lui può ricordarti che anche tu provieni da stranieri, e come vi ho detto prima, vi ricordo adesso testualmente nel Rush 20, capitolo 22, non ricordare al tuo prossimo il tuo stesso difetto. Dunque, concetti molto importanti che purtroppo, nella maggior parte del caso dell'umanità, non si applicano più di tanto. Ma ecco, la Torah che viene, ci ricorda di fare, appunto, attenzione. Dunque, va su dieci. Allora, per sei anni seminerai la terra e ne raccoglierai il prodotto. Il settimo le darai in reposo e abbandonerai i suoi frutti. In che senso? Dice Rashi, non mangiando il suo prodotto dopo il B.U. cioè, dal momento in cui viene messo a disposizione di tutti, il settimo anno, come sappiamo. E, anche non facendo, secondo un'altra spiegazione, un lavoro completo, cioè, come la ratura e la segna in minà, non spargendomi con cime e non zappandola. Cioè, questo è quando si dice abbandona i suoi frutti e ne mangeranno il povero indetto popolo. quello che avanza venga mangiato dagli animali della campagna e altrettanto farai per la tua vigna e per i tuoi oltri. Asuk, dunque, 10 e 11, nel senso che nel settimo anno, non abrogherai il sabato settimanale. Vuol dire, come uno dice, tutto l'anno, l'anno sabato, stiamo parlando di un anno sabato, cioè, tutto l'anno si chiama anno di shabbat, no, anno sabato. A questo punto, se tutto l'anno è l'anno sabato, non devo osservare lo shabbat. Cioè, no, fermo. L'anno è l'anno sabato, però il shabbat rimane il shabbat e lo devi osservare. Dunque, affinché, e questo affinché riposi il tuo bue, il tuo asino, abbiano un respiro il figlio della tua schiava e lo straniero. Ancora qui il lato estremamente umano, empatico della Torah, dove saranno anche animali, saranno anche, sarà anche una schiava, sarà uno straniero, ma il massimo rispetto per tutte le creature di Hashem, sotto forma, appunto, tra le creature umane o del mondo animale e quant'altro. Dunque, 12. E anche qui un principio molto importante quanto l'uomo, l'essere umano e qui anche ricordato appunto l'animale, ha bisogno, come si dice di, vedete qui la presa, qui dici, sta facendo il segno della presa. E ogni tanto bisogna staccare la presa, ecco perché abbiamo lo Shabbat e questo staccare la presa in realtà è quello che ci permette umanamente e anche cioè noi umani in particolare, ma anche abbiamo detto anti-animali, di poter rigenerarci, dunque, ricaricarci per poi assolvere ai nostri compiti come Dio comanda. Dunque, riposarsi mentalmente, fisicamente, è in realtà parte di questo percorso di servizio di Hashem, soprattutto se, come in questo caso, proprio esplicitamente comandato da Hashem. tredici, io dico, state bene attenti a tutto ciò che vi ho prescritto e qui un altro principio importantissimo, il divieto di non nominare mai nome di divinità straniere, né si sentano pronunciate dalla tua bocca. Allora, dunque, non dire a un'altra persona, Rashi entra nel dettaglio e dice aspettami accanto a tale idolo a ci vediamo, ci incontriamo o vabbè, stai con me fino a questo giorno festivo idolatrico, ok? E un'altra spiegazione è tutto ciò che vi ho detto osservatelo e non nominate altre divinità. Cioè, cosa vuole insegnarci di Rashi? Che non nominare divinità idolatriche equivale per importanza all'adempimento di tutti le altre mitzvot, tutti gli altri precetti e chi sta attento a questo precetto è come se osservate se tutte le mitzvot. Dunque, guardate a che punto l'importanza appunto di non pronunciare, nomirare nome di Avodasara, di idolatrie varie e neanche a farne riferimento come abbiamo visto. Leggiamolo sul testo. Uvchol asher amarti alechem tishamiru veschem iloghim acherin lo taschiru lo ishammah al-bif. Pasuk 14 e qui arriviamo al comandamento di festeggiare, celebrare le i regalim, no? Le tre feste che per le quali poi c'è il pellegrinaggio Allora, tre volte l'anno celebrerai le festività in mio onore. Guardiamo sul testo Shalosh regalim tachogli bashanah. Chi si ricorda? Uffa, domandona per quelle che sono nel ciclo da tre anni dove anche si parla di tre regalim. Allora, noi, allora, già vi riporto il fumash bamidbar capitolo 22 passo 28. Allora, siamo nell'episodio di Bilham che viene ingaggiato per maledire il popolo ebraico che rifiuta più volte non perché rifiutasse l'ingaggio o la somma ingente che le avevano proposto ma perché sapeva che Hashem non le avrebbe permesso come di fatto abbiamo visto è accaduto però a un certo punto non ha saputo resistere e prende l'asina e si avvia per questa missione verso Balak che insieme poi faranno questi sacrifici nella speranza che Hashem possa permettergli di maledire il popolo ebraico cosa che non sia mai cosa succede con l'asino l'asino non allora si vede l'angelo di Hashem e si sposta a destra a sinistra e Bilham che non l'ha visto la colpisce a quel punto l'asino apre la bocca e dice perché mi hai colpito tre volte e quale termine usa shalosh regalim lo shalosh pehamim shalosh regalim elirash di proposito ho usato questo termine per dire tu stai andando a maledire il popolo che osserva le tre feste della Torah tipo non hai nessuna chance ecco piccola parentesi importante ok dunque come abbiamo detto shalosh regalim tachog di basher e per allora tre festività e andiamo partiamo dalla numero uno la più importante che è quella di Pisa osserverai la festa delle azime per sette giorni mangerai il pane azimi come ti ho prescritto per il mese di aviv poiché allora sei uscito da reggioro e attenzione non comparire davanti a me a mani vuote cioè quando vi presenterete nelle festività come spiegarasci portatemi degli olocausti e da qui l'usanza ebraica ricordate Rachel già vedo anche fantastiche di non andare mai in casa altrui senza un dono che può essere un mazzo di fiore da 50 euro ma può essere un fiore da tre euro può essere ognuno secondo le sue possibilità perché ognuno è possibilità economiche che Hashem ha dato però un dono anche simbolico bisogna dare e questo ce lo insegna la Torah ce lo insegna Hashem la sua bellissima Torah dice voi venite a casa mia nel Bet Amitash tre volte all'anno dunque siete sensati ma attenzione non venite a mani vuote non perché Hashem ha bisogno dei nostri doni tutto il mondo il suo come ben sappiamo ma è proprio per educarci a noi di come comportarci tra umani perché è tutto quello che Hashem richiede o che fa è per diciamo indicare a noi la strada del Dere Kerez che come ben dice la Mishnah e dunque 15 16 poi dunque la festa di Pesach passiamo alla festa della Mietitura cioè la festa di Shavuot Pentecoste quella delle primizie dei tuoi lavori agricoli che avrai seminato nel campo infine la festa del raccolto cioè che è la festa di Sukkot delle capanne sul finire dell'anno quando raccoglierai il frutto delle tue fatiche del campo cioè durante come dice Rasci tutta l'estate i frutti stanno a seccarsi nei campi poi a Sukkot li si raccolgono e si portano in casa appunto a causa delle piogge 17 tre volte l'anno comparirà ogni tuo maschio cioè tutti gli uomini che sono tra voi di fronte ad Asher dunque diciamo questa mitzvah del pellegrinaggio a Yerushalayim e a Tamidash vige soprattutto sugli uomini poi di fatto venivano anche con le famiglie però diciamo la mitzvah 18 anche perché una donna può essere dopo parto può essere impedita come noi donne con tutti i nostri impedimenti mensili e quant'altro e figli allora l'obbligo è sull'uomo 18 dunque lo 17 un attimo sì non versare sul pane levietato nel senso non farai il sacrificio pasquale il 14 di Nisan finché non sarà eliminato tutto il lievito dalla casa come sottolinea Rashi dunque non appunto verserai sul pane levietato il sangue del mio sacrificio e il grasso del sacrificio festivo non rimanà fino al mattino senza essere offerto le nuove primizie della tua terra che recherai al Betamikdash santuario di Aschen tuo Dio dunque anche durante l'anno sabbatico sottolinea Rashi devono essere presentate le primizie e e in che allora poi Rashi diciamo indica come ci si regola dice così una persona entra nel suo campo vede un fico che ha fiorito la sua primizia lo avvolge con un giungo per distinguerlo e poi lo consacra come primizia come è riportato nel Midrash Bikuli il prelevo delle primizie riguarda soltanto attenzione ricordatevi le sette specie di prodotti ricordati dalla Torah in Devarimoto 8 che sono Eretz Israel che è una terra di grano orzo uva fichi melograni per di olivi e miele dunque ecco le sette specie e su queste sette specie vige il il prelievo delle primizie e come si conclude questo famosissimo Pasuk non cuocere il capretto nel latte di sua madre allora il divieto di consumare latte e carne parte ovviamente da questo Pasuk che è l'ultimo di oggi allora il divieto della Torah di Cerashi viene ricordato in tre punti una volta perché tre volte una volta a parte che è Hasakah questo concetto che abbiamo conosciuto una volta per vietarne la consumazione appunto con cibi di latte un'altra per non trarne alcun beneficio e infine per vietare di cucinarlo insieme al latte dunque c'è il consumare c'è il trarre il beneficio e c'è il cucinarlo insieme e leggiamo appunto questo Rechit Becure Admatrat Aviv Betadone Lo Echa Lotte Val Shell Vidi Bacale Bellissima questa Parashah ma a studiarla nel dettaglio anni ok noi facciamo diciamo lo studio basic essendo giornaliero però già non è male ammettete allora siamo un attimo prendiamo i libri passiamo al libro del del Tania allora oggi vintinove infatti è molto impegnativa giustamente come dice Esther molto impegnativa ce ne sono di Mitzvot da attuare in questa parashah allora giorno ventinove siamo alla pagina cuore lev sessantatré dell'IQ Tania e dall'alto contate uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci decima riga dall'alto penultima parola dopo il punto Allora parliamo di questa unione di con Akkadosh Barofu che è un'unione eterna a livello delle sfere superiori attenzione questo perché Akkadosh Barofu e la sua volontà trascendono il tempo ecco perché è eterna lo trascende pure anche la sua volontà rivelata quella che si manifesta nella parola contenuta nella Torah a sua volta eterna come è scritto in Ishaia 48 ciao Rachel ma la parola del nostro Dio dura eterno come anche lo ritroviamo nella liturgia del mattino nella sfila del mattino le sue parole vivono e durano in eterno e come lo troviamo nel famoso inno sui tredici fondamenti della fede compilato in origine da Rambam dal Maimonide e incorporato nella liturgia di molti riti se farà di sicuro do la conferma e cosa è scritto appunto in questo famoso inno Iqdal Hashem non muterà né modificherà la sua legge in eterno dunque vediamo questo concetto di eternità dove appunto la volontà rivelate di Hashem trascende e qui però abbiamo parlato delle sfere superiori torniamo invece qui giù in questo mondo l'unione ha i propri limiti sì temporali e dura soltanto finché uno studia la Torah dunque si occupa di Torah ad envia le mitzvot più tardi infatti se l'uomo si impegna in qualunque altra cosa che non sia Torah allora in quel momento è separato da questa suprema unità divina e soprattutto quando si occupa di cose vane completamente vane che non servono per nulla al servizio di Hashem infatti come ho detto prima staccare la presa in modo kasher non stai studiando in quel momento però ti stai ricaricando ma quando diciamo staccare la presa non con cose che io non voglio affietarti ok con cose permesse o quello che chiameremmo clipatnoga di cui abbiamo tanto studiato tuttavia se cosa succede questo però quando si occupa di cose completamente vane che non servono affatto al servizio di Hashem quello è già un altro discorso però dunque quello non va bene a stenzione ma se più tardi si pente e torna al servizio di Hashem dunque a studiarla Torah a pregare con coinvolgimento a chiedere perdono ad Hashem per appunto non essersi occupato di Torah quando avrebbe potuto farlo Hashem li perdonerà e qui come riportato nel Talmud nel Talmud trattato di Yoma 86b se uno ha trasgredito un precetto positivo ma si è pentito viene perdonato seduta a stare sentimento vero e sincero e perciò i nostri Chachamim hanno stabilito che la benedizione nell'amidà dei giorni feriali le tre amidot tutti i giorni cosa diciamo c'è una berakhat tra le 18 berakhot dell'amidà ce n'è una che è Slachlam perdonaci ok che recitiamo appunto tre volte a quale perdono si riferisce perdono per quale peccato perdono e per il peccato di aver trascurato lo studio di Torah un peccato attenzione che il Balatani è precisa a cui nessuno può sfuggire in alcun giorno umanamente parlando allo stesso modo noi abbiamo quest'offerta dell'olocausto giornaliera no nel Betamikdash che soffriva tutti i giorni e veniva offerta appunto questo questo corbantamid per come spiazione per aver trascurato i precetti così e conclude non è la stessa cosa attenzione non dunque non rientra nella categoria di peccherò e poi mi pentirò più tardi vi ricordate abbiamo parlato di questo concetto uno che dice ah vabbè adesso pecco poi dopo farò ciù va eh no non funziona ovviamente e a meno che la persona non faccia affidamento nel momento in cui commette il peccato sul successivo pentimento e pecca per questo e cioè come se la lo portasse a pecare cioè il fatto che sa che ha la possibilità di far ciù va ah dunque allora ne approfitto dunque faccio il peccato perché tanto poi posso sempre fare ciù va non ovviamente non non è proprio così anzi vediamolo velocemente sul testo e poi concludiamo con non Grazie a tutti. 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 e a tutti. e ci vediamo.